Ciao a tutti, benvenuti alla seconda lezione del corso di autostima. Allora, prima di partire, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, abbiamo visto che cos'è l'autostima? L'autostima è la salvaguardia della nostra dignità e la disistima è l'oltraggio alla nostra dignità. Inteso con la nostra dignità, che sono i nostri valori fondamentali, le nostre credenze fondamentali, il rispetto di noi stessi come persone. E sono tre questi pensieri che possono andare a oltreggiare la dignità. Il pensiero di sentirsi impediti nella nostra libertà, cioè di non essere liberi di fare le cose, il pensiero di non essere capaci di conquistare, e il pensiero di essere sventurati. Allora, da dove nascono questi pensieri? Allora, il pensiero di essere impedito nella libertà è un pensiero che nasce dal rapporto con i genitori fondamentalmente, dai conflitti genitoriali. Questi conflitti genitoriali si sviluppano, diciamo, nell'evoluzione, perché dobbiamo tenere presente questo, che tutto quello che andiamo a sperimentare nell'età adulta in realtà è un imprinting dell'età infantile fondamentalmente, è un imprinting che si sviluppa proprio, diciamo, in età infantile. Ecco, il pensiero di non essere liberi nasce da un conflitto avuto con i genitori da zero a cinque anni, che ha portato al complesso del rifiuto, quindi non sentirsi accettati come, diciamo, il conflitto del non sentirsi accettati ha generato il complesso del rifiuto, cioè l'agganciarsi su persone che ti rifiutano, e quindi persone che ti rifiutano che limitano quindi la tua libertà perché tu ti senti trasportato a fare delle cose che non vorresti fare. Questa avviene da zero a cinque anni. Poi c'è una seconda possibilità, diciamo, dai cinque ai dieci anni, che invece è legato a un altro conflitto, che è il conflitto di comparazione, cioè il genitore che continuamente, costantemente, dice ah, guarda che tuo cugino è più bravo, tua amichetta è più bravo, questo fa quello, tu non lo fai, cioè ti fa sentire sempre quello sbagliato. Quindi questo conflitto di comparazione produce un complesso, un complesso è un pensiero complesso che è la vergogna, cioè sentirsi perennemente svergognati, cioè possiamo svergognarci di tutte, quindi iniziamo anche qua a non essere liberi nell'agire, a non essere liberi nell'azione, talvolta a non essere liberi neanche nel pensiero. Tutto questo ovviamente va ad alimentare poi l'oltraggio alla dignità. E l'ultimo è da sei, da dieci anni, fino a circa la metà degli anni, che è quello del conflitto legato alle scelte della nostra vita, cioè il genitore che ti vuole imporre che cosa devi fare a scuola, che devi fare queste, quindi noi dobbiamo, diciamo anche qua, ci sentiamo condizionati, manipolati, e quindi condizionati e manipolati vuol dire essere vincolati nella nostra libertà. E questo può manifestarsi, ripeto, dai sei anni in avanti, fino a circa, anche alla metà degli anni, insomma, fino a circa un'età che può essere anche abbastanza avanzata, perché spesso i genitori condizionano fortemente. Ecco, questa è la nascita di questi pensieri, di questo pensiero di essere impedito. Quindi tu sei impedito perché sei rifiutato, sei impedito e ti aggancerai su chi ti rifiuta, sei impedito perché sei comparato fallimentalmente e ti concentrerai su chi ti vuole, diciamo, ti fa sentire in imbarazza e in vergogna, oppure su chi ti condiziona invece e ti manipola, e questi che hanno vissuto questo sono le prede, diciamo così, ideali dei narcisisti. Ecco, questo è il primo pensiero che genera questo affronto, questo oltraggio alla dignità e quindi genera disestima. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti!